Il capolinea in via Vanzo, retro stazione, si parte e si arriva qui. Dopo settimane di sperimentazione è stato definito il percorso della circolare Arcella, il bus navetta che servirà il quartiere più popoloso di Padova. Il percorso tocca i principali punti di aggregazione del rione, via Vanzo, via Menabuoi, via Le dell'Arcella confermata vicino alla scuola Zanella, via Aspetti, via Durer dove c'è il liceo Curiel, via Viotti, via del Plebiscito, via del Bigolo per servire gli avventori del bocciodromo e delle palestre. Il bus poi prosegue e sbuca l'altezza del discount all'angolo con via Cardinal Callegari che viene percorsa fino alle vicinanze del laboratorio di analisi medica e data medica. Da qui si sposta in via Benedetti verso via del Plebiscito e poi via Valmarana arrivando in via Guidoreni al semaforo dell'incrocio con via Dupré. La circolare poi si dirige verso via Ansuino da Forlì servendo anche tutta la zona di San Bellino, via Bramante, via Buonarroti, via Minio dove ci sono le scuole dei rogazionisti e l'Istituto Valle. Tornando poi su via Aspetti, via Nivale da Bassano si passa sotto il cavia Borgomagno per ritornare al capolinea di via Vanzo. Il servizio era stato sospeso nel 2014. La nuova circolare Arcella tornerà operativa il prossimo 11 settembre con la riapertura delle scuole, concorso ogni 15 minuti per 12 ore al giorno, almeno fino a Natale in via sperimentale.